stop plastic oggi il canale riporta in un mondo di plastica dove la plastica sta distruggendo la nostra flora e la nostra fauna la plastica è presente in tutti gli oceani io con questo concluso seguite il video e se piace lasciate like per intanto Stop Plastic il nostro corso gratuito www.mesmerism.com Oh 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 oh. We talk on the phone, every night. Love to hear your voice, not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti